La notte dei musei, il 19, la giornata intera dedicata ai nostri spazi espositivi, compresa la Rocca Roveresca, sito archeologico, museo dell'informazione, palazzo del Duca, galleria diocesana, tutto viene vissuto con un percorso che inizia al mattino con la presentazione delle audioguide per quanto riguarda il sito archeologico, per quanto riguarda poi dopo anche successivamente nel pomeriggio la Rocca Roveresca, i nostri luoghi storici letti appunto con una medialità che ci consente di poter divulgare meglio il patrimonio e poi tante iniziative che si articoleranno per tutta la giornata a livello espositivo con la fotografia stenopeica o nelle iniziative legate appunto all'attività che costantemente facciamo, come sempre ci presentiamo nel panorama cittadino e anche per i nostri ospiti iniziando di fatto da questo momento, dal 19 di maggio, la nostra lunga stagione che terminerà in autunno e vedrà tanti appuntamenti di qualità che spero anche quest'anno coinvolgano le migliaia e migliaia di visitatori che normalmente ci seguono.